È tutto dedicato a film di interesse storico-sociale, il nuovo ciclo di Cine Campus, la rassegna cinematografica dell'Università e Campus, organizzata in collaborazione con Act Multimedia, la scuola di cinema di Cinecittà. È in questo contesto che è stato proiettato Piazza delle Cinquelune, il film di Renzo Martinelli che, 25 anni dopo, ricostruisce un momento drammatico e controverso della storia della nostra Repubblica, il rapimento di Aldo Moro in Via Fani il 16 marzo 1978 ad opera delle Brigate Rosse. Questa è la seconda fase del ciclo di Cine Campus, è tutta dedicata alla storia e al sociale. Perché avete deciso di inserire proprio questa pellicola? Perché è un pezzo della nostra storia. Poi oggi è un giorno particolare perché abbiamo avuto questo lutto nazionale e il presidente Andreotti è molto, molto collegato ai fatti che abbiamo narrato in questo film. perché era lui il primo bersaglio del rapimento delle Brigate Rosse e Aldo Moro si stava recaondo a dare la fiducia al governo Andreotti. Pensi che è coincenza straordinaria da raccontare ai nostri giovani. Perché proporre la visione di questa pellicola all'interno del progetto di Cine Campus? È stata un'idea del nostro responsabile cultura che si chiama peraltro Fabio Campus, responsabile cultura di Uniti per il Centro Storico, che è anche lo sceneggiatore di questo film. e l'idea è nata perché volevamo ricordare ai giovani un periodo importante della storia d'Italia. Fra l'altro un periodo recente, insomma, non tanto lontano, che però è stato forse per i giovani rimosso, o comunque del quale si parla poco, perché è un periodo anche buio della nostra storia, che è quello che riguarda il terrorismo, in tutte le sue sfaccettature, sia rosso che nero, insomma. E quindi penso che fosse importante ricordare questo periodo storico, quello che è successo e anche come si è arrivati alla democrazia che stiamo vivendo oggi. Piazza delle Cinquelune riaffronta il nostro passato recente e le sue tante ombre. Nel film il procuratore di Siena, Saracini, riceve misteriosamente un filmato amatoriale che registra il momento del rapimento di Aldo Moro. L'indagine rappresentata apre agli intrecci della P2 con la vicenda e scandaglia l'omicidio del leader della democrazia cristiana, una delle pagine più buie della nostra storia. Ne ha discusso con gli spettatori lo sceneggiatore del film Fabio Campos. Il film racconta una pagina ancora ambigua e controversa della nostra storia. Qual è la lettura che lei insieme al regista avete voluto darne? È una lettura basata innanzitutto su una documentazione vera, quella degli atti delle commissioni parlamentari, per cui atti riconosciuti, votati. È quella fondamentalmente di un complotto che c'è stato, per cui Aldo Moro ha pagato un'idea politica di pacificazione. Qual è il riscontro che c'è stato? Senti, il riscontro che c'è stato fu un grosso riscontro di critica. Mi ricordo la conferenza stampa, la prima proiezione del film, per tutti i film che ho fatto, anche di altri colleghi, c'era un interesse molto molto grosso quando uscì il film esattamente il 9 maggio del 2003. Naturalmente tutti i politici parlarono, ci accusarono di etnologia e compagnia bella. Nelle sale cinematografiche il film è durato poco, poi ha avuto un buon successo televisivo, i DVD sono andati esauriti, per cui credo che tanta gente l'abbia visto. Tra l'altro è stato approvato anche dai familiari di Aldo Moro, il primo, l'unico film ad essere approvato da loro? Sì, sia dalla moglie che dal fratello Carlo. È stato approvato dai familiari. Nell'ultima scena c'è il nipote amatissimo di Aldo Moro che canta una canzone che aveva scritto per il nonno. Pensa che si arriverà mai a fare luce completa su questa vicenda, oppure ci sono dei poteri troppo forti? Come tutti i misteri italiani, dubito che si arrivi alla verità. Dubito.